I agenti di polizia del commissariato di Batipaia hanno tratto in arresto presso lo scalo aereo internazionale di Roma a Fiumicino un 36enne di nazionalità dominicana in esecuzione di un mandato di arresto europeo della Corte di Appello di Napoli su segnalazione dei poliziotti salernitani per il reato di traffico di sostanze stupefacenti. L'uomo ricercato internazionale ed estradato dalle autorità spagnole ora si trova in una cella della casa circondariale di Rebibbia.